Buongiorno, benvenuti dalla sedia stampa, sono le 10 e un quarto. Oggi devo dire la verità che non mi sono per niente annoiato a leggere i giornali, altro che palla come i giorni scorsi. Ci sono spunti favolosi sui giornali, vediamo di essere brevi e concisi perché parto dalle cose magari minori ma molto più interessanti. Oggi sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a un signore che si chiama Bergamo e di professione fa l'assessore anche alla casa a Roma. Bergamo a Roma. Sapete cosa ci dice Bergamo a Roma? Ci spiega che bisogna mettere più tasse per gli edifici che sono sfitti e bisogna dare poteri speciali al sindaco e alla giunta romana per poter fare una cosa di questo tipo. Scusatemi. Più tasse sugli immobili perché sono sfitti. Cioè secondo lui gli immobili sono sfitti perché i proprietari di casa sono cattivi, non perché quando hanno dentro una persona in casa non riescono a tirarla via neanche a calci nel sedere. Secondo Bergamo non si rende conto che a Roma il 90% delle persone che ha gli appartamenti sfitti cerca di fare case vacanze per il semplice motivo che le case vacanze rendono di più e le persone se ne vanno. Caro Bergamo, vivi nel mondo reale, non quello del microchip, ma la cosa più stupenda di Bergamo riguardo alle occupazioni delle case ci ha detto che il diritto ad abitare, quindi la giustificazione dell'occupazione e il diritto ad abitare, vale quanto quello della proprietà privata. Avete capito? Il diritto ad abitare, cioè il diritto di chi occupa le case, vale quanto quello della proprietà privata. Chiaro? Quindi io vorrei chiedere ai romani, al 75% dei romani che hanno votato la signora Raggi insieme a Bergamo, insieme all'assessore che vuole con le pecore risolvere il problema di Roma. Vi faccio vedere che cosa sta succedendo dalla Cristoforo Colombo dal fiumicino a Roma. Ci sono le sterpaglie alte così, che se ci arriva un fiammifero va a fuoco praticamente l'arteria principale della città. Allora, io vi chiedo, a voi che avete votato, moderati, del centrodestra, la Raggi, leggete cosa dice il suo assessore sulla casa, così vi prendete un po' di pauretta nei vostri soldini, che è forse l'unico ragionamento liberale che potete avere. E cioè, votate la Raggi? Perfetto, votate uno che dice che il diritto di abitare vale quanto il diritto di proprietà. Il diritto ad occupare, quindi ad abitare, vale quanto il diritto di proprietà. Complimenti. Oggi, e sproprio si chiama, c'è ragione Carolina, e sproprio, pagare di più le case sfitte e la possibilità di rendere, occupare le case, si chiama e sproprio. Andiamo sul decreto dignità. Sul decreto dignità c'è un lungo pezzo della Fornero, che io condivido al 100%, state bene a sentire, condivido al 100%. Ma il problema della Fornero, cari amici miei, che scrive questo pezzo, dicendo la flessibilità, non servono le leggi, eccetera, ma qual è? Lasciate perdere le pensioni. Chi è che ha messo una tassa dell'1,4% sui contratti a tempo determinato? Questo governo, ogni rinnovo, mette un'ulteriore tassa dello 0,5%, sono contributi. Ma chi è che ha inaugurato questa stagione? Chi è che ha inaugurato la stagione della causale sui contratti a tempo determinato? La Fornero oggi fa il fenomeno, ma è ieri lei che ha inaugurato una stagione di maggiore rigidità, perché doveva farsi giustificare Jobs Act, sul mercato dei contratti a tempo determinato. Quindi, insomma, voglio dire, veramente incredibile. Tra l'altro, la prima a parlare di Manine e Appia Gnucolare, che gli avevano dato i dati sbagliati sugli esodati, è stata lei. E all'epoca c'era un altro all'Elimpse, Mastra Pasqua. Ovviamente tutti ne parlano malissimo di Mastra Pasqua, ma è la stessa procedura. Lei si lamentava dei dati di Mastra Pasqua, come Di Maio si lamenta dei dati dei Boeri. E su questo io mi stupisco oggi della verità. Il giornale di Maurizio Belpietro che fa una pagina così titolata c'è la manina sul decreto, a ragione Di Maio. Falso, completamente falso. Mi stupisco come la verità, a differenza dei tanti giornali di centrodestra che stanno, diciamo, facendo un'opposizione costruttiva, la verità è non schierata, sembra il fatto quotidiano. Più del fatto quotidiano, perché il fatto quotidiano è per il governo, ma contro Salvini. Invece la verità è per il governo, è per Salvini e per Di Maio. È incredibile. Grazie per il pagliaccio, Marco. E cosa succede? La verità che cosa scrive oggi? Dice che c'è stata la manina. Poi vado a leggere invece Barbera sulla stampa riguardo al decreto dignità e gli 8.000 posti di lavoro che si dovrebbero perdere per l'aumento delle rigidità, soprattutto per il fatto che ci sono 80.000 persone ogni anno che sono fuori legge perché hanno più di 24 mesi di contratto a tempo determinato. E allora Barbera che cosa dice? Fa una cosa semplicissima. Dice che è arrivata una mail certificata, come si usa, dall'Inps al Ministero del Lavoro che diceva di questi 8.000 posti di lavoro che si perderebbero ogni anno una settimana prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale mail certificata. Va bene. Se bisogna andare avanti andiamo avanti perché voglio citarvi Travaglio che ovviamente difende come sempre la questione degli 8.000. Dice che le questioni di bere l'ha fatta fuori dal vaso sugli 8.000 ma che comunque bisogna confermarlo ma tutto il pezzo di Travaglio si legge solo su una questione e cioè che nei consigli d'amministrazione della RAI il Movimento 5 Stelle ha candidato una giornalista che si occupa del Movimento 5 Stelle e che segue il Movimento 5 Stelle da 5 anni. In genere i giornalisti che seguono i partiti sono un po' embedded dai partiti. Quello che seguivano Berlusconi era Minzolini, quello che seguiva il PD, di lasciamo i perditi, insomma ci sono tantissimi giornalisti che seguono i partiti e seguendoli così direttamente poi ne vengono un po' catturati. Di lei però ricorda Travaglio come 5 anni fa il blog e Casalino ne parlò male però di 5 anni dopo come si legge in tutti gli altri giornali è la giornalista del Tg1 che segue il Movimento 5 Stelle raccontando ovviamente come fa il Tg1 senza mai criticità nei confronti di nessuno, Berlusconi è il Dio, Renzi è il Dio, il Movimento 5 Stelle è Dio e il concetto del Tg1, insomma ne fa una grande eroismo. Che bello un partito che nomina una sua nemica. Ma quale nemica? Ma come si va a prendere per il culo la gente? Trump e Putin fanno e celebrano una grande vittoria. Devo dire che dice giustamente qualcuno alla fine della guerra fredda perché si mette un accordo su Russiagate, cioè Trump dice ma quale Russiagate? Non c'è stato nessun intervento dei Russi nelle campagne elettorali la stessa cosa ovviamente non può che certificare anche Trump. Venturini sul Corriere della Sera dice insomma è veramente incredibile il fatto che è cambiato il mondo oltre alla guerra fredda ha dato degli schiaffoni all'alato, ha dato degli schiaffoni all'Europa e ha fatto l'accordo con Putin. Non si riesce bene a capire perché l'Europa continua ad avere questa posizione così antipatizzante nei confronti della Russia con le sanzioni e devo dire che è una storia stupenda. Come quella di un'intervista oggi semi-clandestina perché è un taglio basso del Corriere della Sera di Weber che non è Max ma è altrettanto importante perché è il ventriloquo della Merkel e quello che permise a Tajani di rimettere d'accordo Berlusconi e la Merkel. Weber che cosa dice? Presidente del Partito Popolare Europeo dice che rispetto alle politiche adottate dalla sinistra condivido quanto sta facendo Salvini sul terreno dell'immigrazione. Avete capito? Rispetto alle politiche adottate dalla sinistra condivido quanto sta facendo Salvini sul terreno dell'immigrazione. Chi lo dice? Orban? Visegrad? Un fascista? Un nazista? Un filo razzista? No! Il Presidente del Partito Popolare, partito per il quale comunque Salvini non milita. quindi il massimo del conservatorismo europeo e di quello a cui aspira Berlusconi, Tagliani, eccetera, eccetera, cosa dice? Dice che Salvini sta facendo bene. Cioè rimettiamoci un po' in sesto. Se il Partito Popolare dice che fa bene, c'è qualche elemento rispetto alle politiche adottate dalla sinistra, condivido quando sta facendo Salvini sul terreno dell'immigrazione. Eh? Chiaro? Poi facciamo le magliette rosse che vogliamo. Stupenda a proposito di magliette rosse la storia incredibile del Corriere della Sera di padre Zanotti. Padre Zanotti, secondo l'accusa, bisognerà verificarla, un'accusa di uno più altre due testimonianze depositate presso lo studio di Anna Maria Bernardini De Pace, sarebbe un violentatore, un molestatore. Il padre dei profughi, l'uomo che ci ha fatto la morale a tutti quanti noi, avrebbe violentato più volte un suo, non solo alcuni, dei suoi ragazzi in comunità. Staremo a vedere, ci sono delle denunce incredibili, io su questo alzo le mani, vedremo quello che succede, presunzione di noi, però oggi il Corriere della Sera ne fa una pagina intera ed è giusto che ve la diga. L'ultima cosa che i giornali oggi non citano ma che io trovo straordinaria, straordinaria è la storia di Fini. La storia di Fini la ricorda bene ovviamente soltanto il giornale perché nel 2010 facevamo una battaglia per cui venivamo considerati la macchina del fango e fu considerato da parte nostra, soffrimmo le pene dell'inferno da un punto di vista, proprio i giornalisti ci trattavano, io mi ricordo ancora quel cazzone di Granata che neanche mi strinse la mano dopo una trasmissione televisiva, Granata, quello che pietiva ora di essere candidato da qualcun altro. Io mi ricordo la buongiorno che ci denunciava a tutti quanti, io ricordo i colleghi, i colleghi che ci consideravano delle merde al soldo di Berlusconi. Cosa è successo? Dopo otto anni viene rinviato a giudizio, i giornali se ne fottono e il presidente della Camera che ha recentemente detto più che il ladro sono un coglione, questo ha detto Fini, sicuramente è un coglione, secondo i magistrati è anche un ladro perché per i secondi correnti transitavano soldi di riciclo, questa è l'accusa, non so se sia verificata o meno, a noi interessava solo la casa di Monte Carlo che lui ha venduto a una cifra vile, guarda caso, a dei suoi parenti che è ormai carta sicura, lui stesso si è definito un coglione per aver fatto questa cosa. Bene, il coglione, come si definisce lui, è stato rinviato a giudizio per riciclaggio e rischia fino a 30 anni di carcere, oggi lo leggete soltanto sul giornale. Sallusti ricorda com'era quel clima, ricorda la notizia e ricorda che la sua grande alleata, conferenza stampa insieme, è quel ministro buongiorno che oggi ci troviamo. nell'attuale governo e che fa tutta la sapientina, quella che non sbaglia mai un congiuntivo, però forse sbaglia qualche sua battaglia politica, perché dopo quella battaglia politica Berlusconi cadde, e chi se ne frega è la storia del passato, e arrivò tutti quei governi di cui conosciamo, tra cui Monti, per cui si candidò la buongiorno come presidente della regione Lazio, quando si candida in situazioni in cui qualcuno deve votare ovviamente non prende neanche un voto. Ecco, questa è la parabola dopo 8 anni di una storia incresciosa. non mi interessa se Fini verrà o meno condannato, mi interessa come fummo definiti solo per svelare una cosa che oggi è dimostrata, cioè la vendita di una casa ereditata da una vecchia contessa militante del Miss, ereditata da Fini e svenduta alla cricchetta dei suoi parenti. Quindi questo è quello che è successo oggi sul giornale, e mi sembra un pochino anche sulla verità, perché anche Belpietro ovviamente con Feltri, anzi forse Feltri, fecero quella battaglia, lo trovate diffusamente. Un saluto a tutti quanti voi, se vi piace questa zuppa condividetela. Anche sulla verità, Teresa, mi ricordo, anche sulla verità, certo Belpietro fu assolutamente uno dei feroci censori di quella vicenda. Anche il tempo, scusami Luca, hai ragione, Chiocci, il direttore del tempo, per fortuna ho letto un po' dei vostri messaggi, Chiocci, il direttore del tempo, era uno degli inviati che a Monte Carlo svelò tutta quella vicenda e magliene incolse. Bene, vi do un grande, oppure hai ragione, bello Guido, Fini accetterà il carcere, beh bisogna condannarlo prima, o raggiungerà il cognato a Dubai, che si è dato, Tulliani si è dato. Un grande abbraccio e buona giornata a tutti quanti voi. Ciao!